Musica Nuovo appuntamento con le notizie di oggi a nord est file davanti ai supermercati questa mattina a Trieste nel giorno in cui è entrata in vigore la stretta sulle misure di contenimento alla diffusione del coronavirus prevista dalla nuova ordinanza della regione Friuli Venezia Giulia tra le prescrizioni introdotte dal governatore Massimiliano Fedriga anche la chiusura domenicale di qualsiasi esercizio commerciale a eccezione di farmacie, parafarmacie ed edicole una cinquantina le persone in attesa questa mattina distanziate l'una dall'altra in un supermercato in via Giulia si entrava alla spicciolata secondo l'ordine di arrivo gli utenti della rete hanno pubblicato sui gruppi facebook dedicate a Trieste video di diverse persone ancora per strada e file sempre distanziate davanti ad altri market intanto decine le email che sono giunte alla polizia locale da parte di cittadini che chiedono chiarimenti su ciò che è consentito fare dal trasloco ai lavori di ristrutturazione alla possibilità di accompagnare i propri figli dai nonni il presidente della regione Veneto Luca Zaia ha firmato l'ordinanza con cui sono chiusi parchi e giardini pubblici all'aperto lo ha annunciato questa mattina i giornalisti la norma vale fino al 3 di aprile prossimo l'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi nei centri urbani è soggetto alle limitazioni per le motivazioni ammesse dalla DPCM con l'autodichiarazione per uscite legate a bisogni degli animali la persona è obbligata a non superare i 200 metri dall'abitazione con obbligo di controllo la spesa è autorizzata ma i negozi di generi alimentari resteranno chiusi la domenica e nei giorni festivi quando la solidarietà viola le disposizioni di legge momenti di tensione si sono verificati quando vigili urbani a Trieste sono intervenuti per disperdere un gruppo di migranti al quale i volontari di un'associazione filantropica stavano consegnando dei beni di prima necessità volontari dell'associazione Linea d'Ombra indossando mascherine hanno portato generi di sussistenza ai migranti e si è creato un assembramento di oltre 30 persone è intervenuta la polizia locale per disperdere il gruppo uno di questi hanno spiegato quelli di Linea d'Ombra lavora con i migranti compiendo un'azione caritottevole allo stesso tempo politica per costruire frammenti di società basati su solidarietà e rispetto reciproco migranti hanno spiegato di essere costretti a stazionare in piazza perché ricevono assistenza in un centro ma soltanto di notte cerimonia familiare questa mattina per l'ultimo saluto ad Adriano Trevisan il pensionato di 78 anni deceduto all'ospedale di Schiavonia per Covid-19 il 21 febbraio scorso primo morto in Italia a causa del virus Trevisan è stato tumulato nel cimitero di Vovecchio nessuno è stato presente oltre la famiglia siamo vicini alla famiglia detto il sindaco Giuliano Martini che non ha potuto presenziare alla tumulazione la procura di Padova che su questo primo decesso ha aperto un fascicolo modello 45 senza indagati aveva dato il via libera alla sepoltura alcune settimane fa ma si attendeva che la famiglia Trevisan uscisse dalla quarantena per la benedizione la procura ha dato in carico a professor Giulio Rizzardini infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano di indagare sul decesso di Trevisan per valutare la tempestività e il rispetto delle procedure dei medici intervenuti in questo primo caso di morte per contagio da coronavirus ed ora la linea passa alla redazione di Treviso a Ponzano un'azienda regala la sanificazione delle strade del paese la Fratelli Massolin che ha deciso di donare il servizio ai suoi concittadini l'azienda sta eseguendo la pulizia con una nuova soluzione di acque e ipoclorito di sodio la varichina all'1% e in quattro giorni conta di coprire l'intero territorio comunale morti raddoppiate una settimana ieri nella marca altre sei vittime i familiari dicono la nostra madre è deceduta con il covid noi a casa senza tampone e senza indicazioni su come comportarci porta affisce a infrarossi tre vigiani truffati alla bisca con una telecamera nascosta venivano lette le carte e pilotate le vincite al tavolo verde veniva offerta anche droga per convincere i partecipanti a giocare l'imprenditrice cinese dona 3000 mascherine alle famiglie di Altivole splendida donazione da parte di una 47enne residente nella marca da quasi 25 anni il sindaco Chiara Busnardo ha detto che la protezione civile consegnerà le mascherine casa per casa fatture false indaga la regina indagata la regina dei monarca di Calzedonia nei guai l'imprenditrice trevigiana Dina Sgarbellotto l'indagine condotta dalla guardia di finanza di Vicenza aveva portato alla luce l'attività di una cartiera vicentina considerata una vera e propria fabbrica di fatture false Rosario Moreno Treviso per Radiodiffusione Europea Euroscience Open Forum ESOF 2020 Trieste capitale della scienza è stata rinviata dal 5 al 9 luglio al 2-6 settembre compatibilmente con l'evoluzione della situazione coronavirus lo hanno annunciato Euroscience e Fondazione Internazionale Trieste in una nota gli organizzatori studiano una rivisitazione del programma con sessioni in teleconferenze multimediali e in quanto ai temi maggiore attenzione a salute pubblica e ambiente ESOF manterrà gli impegni con i sponsor e con i soggetti imprenditoriali confermando la valorizzazione del ruolo della scienza come motore di sviluppo per Stefano Fantoni, champion di ESOF 2020 Trieste adesso la ricerca scientifica è più cruciale che mai e il suo impatto come la sua comunicazione ai governi e al pubblico sono della massima importanza per il presidente di Euroscience Michel Matlotz è possibile che gli effetti del coronavirus si prolunghino per questo la priorità sarà rendere ESOF 2020 il più accessibile possibile con propria ordinanza l'ente tutela patrimonio etico ETP ha sospeso da domani, sabato 21 marzo e sino al perdurale delle misure di emergenza per il contenimento del coronavirus disposte dal governo l'attività di pesca sportiva in tutte le acque interne del Friuli Venezia Giulia al momento quindi l'ordinanza è in vigore fino al 3 di aprile ma con possibilità di proroga nel caso in cui i termini di validità delle disposizioni nazionali venissero spostati in avanti si è deciso di adottare questo provvedimento ha spiegato l'assessore regionale alle risorse agroalimentari forestali itiche Stefano Zanier in quanto molti pescatori continuano a rivolgersi agli uffici manifestando l'interesse a praticare l'attività nonostante i ripetuti richiami e la necessità di non muoversi sul territorio se non per esigenze di lavoro motivi di salute o stato di necessità questi pescatori ciascuno con una propria interpretazione delle norme adottate non si rendono probabilmente conto delle conseguenze che un comportamento errato può avere sulla salute di tutti i cittadini e anche sulla loro fedina penale il provvedimento stabilisce in modo perentorio che ogni attività di pesca sportiva venga sospesa prevedendo altresì di dare massima diffusione alla notizia che interessa oltre 13.000 pescatori residenti in regione tramite la sua pubblicazione sul sito web della ETPI e l'invio di un'apposita comunicazione alle 144 associazioni di pescatori lo stop della ETPI arriva pochi giorni prima di quello che per la stragrande maggioranza di pescatori regionali è vissuto come il momento clou dell'attività ovvero l'avvio della stagione di pesca alla trota in programma per il 29 marzo prossimo Cronac un uomo è morto oggi a Campolongo Maggiore mentre stava utilizzando un muletto per le operazioni di carico e scarico della merce l'incidente è avvenuto in un magazzino alimentare sulla posta i vigili del fuoco di mira e piove di sacco e i tecnici della Spisal in chiusura diamo un'occhiata a quelle che sono le previsioni meteorologiche per la giornata di domani sulla Friuli-Venezia-Giulia di notte probabili nebbie in pianura fascia lagunare e alcuni fondovalle in giornata cielo in prevalenza nuvoloso possibili brevi precipitazioni sparse in genere deboli più probabili in montagna e a est con quota neve inizialmente a 1500 metri in calo fino a 700 metri circa in tarda serata quando inizierà a soffiare bora fredda e forte passiamo al Veneto iniziali foschie e nebbie in pianura lasceranno progressivamente spazio a nuvolosità irregolare alternata ad ampie schiarite specie in pianura dalla serata tendenza ad aumento della nuvolosità dopo il tramonto possibili locali e riduzioni della visibilità sulla pianura interna previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e ARPAV agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto per il momento è tutto dal nord-est appuntamento alla prossima edizione che c'è l'evento che c'è l'evento